C'è da dimenticare subito la sconfitta contro la Virtus Bologna, c'è Torino, squadra in crisi, squadra che era partita con grandi ambizioni, ora è in difficoltà, c'è da approfittarne. Caron Johnson, lo abbiamo sentito, lo sentirete anche voi, integralmente in derby. Troppi alti e bassi per questa pistoia per ora, Caron? Lo stesso che facciamo sempre, Torino è una squadra molto buona squadra, dobbiamo approcciarla un po' come tutte le partite fino ad adesso, Torino, anche se alcune persone dicono che è in difficoltà, rimane comunque una squadra buonissima, una squadra molto competitiva, noi dobbiamo presentarci a Torino al massimo delle nostre possibilità, dobbiamo davvero dare tutto e dobbiamo cercare di arrivare lì con la giusta mentalità per affrontare la partita al meglio. Se facciamo questo, allora sarà una buona partita. Grazie Caron, buon allenamento, potete vedere l'intera intervista a Caron in derby, questo ed altro ovviamente, domenica si gioca alle 18.30 a Palaruffini, ci saremo anche noi con il dopogara. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!